Do you want what you're going to do? Sono riusciti a trovare tre punti in particolare Che secondo me sono una differenza abissale Che distinguono loro da noi Per primo metterei il fattore lingua Ragazzi parlano in inglese o americano che sia È ovvio che il loro pagino d'utenza sia spaventosamente più alto del nostro Perché come tutti sanno l'inglese è la lingua universale E se un americano fa un video Anche uno del Burundi può guardarlo A patto ovviamente che sappia un po' di inglese Ma se un ragazzo italiano fa un video in italiano appunto Col cazzo che il nostro amico del Burundi lo guarda Perché giustamente non ci capisce niente E non ha motivo di guardarlo Quindi o voi mettete a parlare inglese E fate video in inglese Oppure avrete un pubblico per il 95% italiano Secondo punto molto importante è la qualità Ragazzi è palese La qualità che gli americani hanno nel montare video di media È più alta di quella degli italiani Ci sono montaggi, recensioni o unboxing O qualsiasi altro video con qualità molto migliore della nostra Nella maggior parte dei casi E questo è un fattore decisivo per quanto riguarda la fidelizzazione del pubblico Perché inevitabilmente la qualità è un fattore spaventosamente importante Poi mettici che vedi youtuber 10.000 iscritti americani Che hanno attrezzature come se ne avessero 10 milioni E che quindi partono con budget già molto alti È ovvio che registrare un video con un microfono a 200 euro Rispetto alle cuffie prese ai ginesi a 5 euro Non è la stessa cosa E questo le persone che guardano il video Lo vedono e lo sentono soprattutto L'ultimo punto riguarda il fattore popolazione Popolazione intesa come numero di persone che compongono lo stato americano Non si può nemmeno lontanamente pensare di paragonare questi due numeri Perché andando a parlare di anagrafica pura e critica La popolazione italiana si aggira intorno ai 60 milioni Mentre quella americana si aggira intorno ai 320 milioni Capite quindi che il bacino di utenza è molto molto più alto E che quindi inevitabilmente in America 10.000 iscritti contano come 100 in Italia Perché basta solo il numero stesso di abitanti americani Per far perdere importanza, tra virgolette, al numero di iscritti Per non parlare poi, ricollegandosi al punto numero 1 Delle persone intorno al mondo che possono guardare un video fatto in inglese Che sono tante, veramente tante Quindi la domanda che sicuramente tutti vi state ponendo È come faccio a diventare famoso su YouTube Diciamo che se andate a cercarlo proprio su YouTube Ci sono tantissimi video che ne parlano Con tutti i vari consigli che ci possono essere Io sinceramente da praticamente neofita Perché non è che sono chissà chi O quale YouTuber famoso Però sicuramente la cosa che ho imparato È che la gente vi deve saper distinguere per qualcosa in particolare Quindi non è perché adesso su YouTube ci sono gameplay O esperimenti sociali O vlog O videocomici O challenge Allora sul vostro canale dovete portare tutto Perché è come se voi fate tutto e niente E quindi il risultato sarà sicuramente Che i vostri iscritti non aumenterebbero E nemmeno le vostre visualizzazioni Quindi per prima cosa È che dovete trovare uno specifico argomento di cui parlare E soprattutto tramite questo argomento Andrete sicuramente a stimolare un pagino di utenza preciso Quindi un target di persone che hanno uno specifico identikit Quindi naturalmente se io faccio video dei trucchi Sicuramente il trentenne maschio non mi verrà sicuramente a guardare giustamente Ma se invece faccio cazzo ne so video appunto gameplay come vanno adesso Di Minecraft sicuramente non mi aspetterò di trovare persone di trent'anni che mi vengono a vedere Ma anzi troverò magari ragazzi più piccoli O al tempo stesso come se mi metto a parlare non lo so dello spazio Sicuramente non verranno i bambini di tre i cianni a guardarmi Non lo so la spiegazione delle leggi della fisica O una roba del genere Tutto sta a sapere cosa volete fare voi Cosa piace a voi Perché se io mi metto a fare un videogioco che odio O mi metto a fare le challenge che mi stanno sul cazzo Oppure a parlare dell'astronomia che mi fa schifo Sicuramente non ci porto avanti un canale per anni È quello il discorso che voglio far capire Quindi naturalmente dovete fare quello che vi piace Dopo se siete sfigati e vi piace un gioco sconosciuto Che conoscete a malapena voi E che vi siete innamorati di questo gioco Vabbè partite dal presupposto che non ci sarà chissà quale seguito E vi mettete l'anima in pace E così ma comunque voi la vostra qualità ce l'avete Il vostro campo ce l'avete E chi vi vuole vi segue Però diciamo che bisogna che vi fate ricordare per qualcosa Le persone che vi vedono devono dire Ah quello lì è quello che parla di questo Quello lì è quello che parla di quest'altro Così che chiunque voglia vedere un video che riguarda il vostro gioco La vostra challenge I vostri trucchi Vi trova con facilità E ok l'argomento che Oggettivamente magari fare gameplay non è originale per niente Ma è la metodica in cui l'attuate questa cosa Perché se voi avete originalità nel fare quello che fate Sicuramente tutte le persone che vi vedono Lo vanno a capire subito Direi che altri due fattori importantissimi sono Non pensare su della fama e i soldi Perché ovviamente tutti i ragazzi Adesso piccoli che iniziano Dicono ah cazzo c'è il YouTube si è comprato la Mercedes Ah cazzo c'è il YouTube è americano che si è fatto la Ferrari Sì ragazzi ma quelli lì magari hanno iniziato sei anni fa Per caso nessuno di questi Sono sicuro che ha iniziato pensando Cazzo ci vado a guadagnare un sacco di soldi Oppure ci vado a vivere Perché sei anni fa Sette anni fa Cioè quando praticamente tutti questi canali hanno iniziato YouTube non era come adesso YouTube non era visto come un lavoro effettivamente Invece adesso può diventare effettivamente un lavoro E nessuno lo mette in dubbio Ma tutti questi YouTuber trattano YouTube come un lavoro appunto E come le persone normali fanno lavori normali Diciamo tra virgolette Si alzano alle 7 Fanno tutto quello tutti i giorni Lo YouTuber deve fare quello tutti i giorni Quindi la costanza La costanza perché se voi fate qualcosa a cazzo Solo quando avete voglia E volete guadagnarci Sicuramente non ci guadagnerete O perlomeno Ci sono quelle eccezioni Che magari quel tizio fa un video a mese Prende Non so 10 milioni di visualizzazioni Sta a posto Però è un caso su un miliardo Quindi è la costanza importante L'importante Perché se voi portate sempre contenuti Sempre contenuti di qualità Ci sprecate Quell'1, 2, 3 ore al giorno 4 ore al giorno Se avete tempo E disposizione di tempo ovviamente È una cosa che piano piano Vi farà diventare famosi Tra virgolette Quindi ragazzi Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione È un video corto Ma ho voluto proprio Racchiudere alcuni punti Così a caso Che penso io E che spero comunque Possa rendervi utile La vostra permanenza su YouTube E spero anche la mia in realtà E noi ci vediamo Nel prossimo video come sempre Ciao a tutti ragazzi